Ben trovati dagli scavi di Pompei, siamo qui su invito del direttore del parco archeologico Massimo Osanna per l'apertura e l'inaugurazione di quella che vediamo alle nostre spalle e sul fondo il faiito innevato per raccontare l'apertura di questa zona tra virgolette Virginia nel senso che non è stata mai esplorata, ci presentano l'apertura del cantiere e i primi ritrovamenti, effettivamente l'apertura è avvenuta qualche mese fa, sono venuti fuori delle situazioni, i muri sono stati messi in sicurezza e si procederà da qui nell'arco di quinquennio a rimuovere quanto più è possibile per vedere che cosa viene fuori, questa Pompei che cresce, si allarga non solo nella direzione archeologica ma anche quella della ricerca, ricerca, tutela, valorizzazione, è tutto un procedimento collegato tra di loro. A tra poco vedo ulteriori aggiornamenti.